Ci occupiamo adesso del teorema di Lagrange, o teorema del valore medio, come viene anche chiamato. Vediamo l'enunciato. Sia f di x una funzione continua nell'intervallo chiuso a b, e derivabile nell'intervallo aperto a b. Esiste almeno un punto c appartenente da b, in cui risulta f' di c uguale f di b meno f di a fratto b meno a. Sembra un po' astrusa questa tesi, ma ha una sua interpretazione grafica che adesso vedremo. Inoltre ha diverse applicazioni importanti nello studio delle funzioni. Rivediamo intanto schematicamente ipotesi e tesi del teorema prima di passare alla dimostrazione. Tra le ipotesi abbiamo la continuità nell'intervallo a b chiuso, la derivabilità nell'intervallo a b aperto, e la tesi di conseguenza è l'esistenza di un punto c interno all'intervallo a b, in cui risulta l'uguaglianza f' di c, cioè la derivata della funzione calcolata nel punto c, con il rapporto f di b meno f di a fratto b meno a. Soffermiamoci un attimo su questo rapporto. f di b meno f di a è l'incremento che la funzione subisce quando si passa dall'estremo sinistro dell'intervallo all'estremo destro, f di b meno f di a. Al denominatore troviamo invece l'incremento della variabile indipendente, la differenza b meno a, che poi è anche l'ampiezza dell'intervallo a b. Questo rapporto rappresenta quindi l'incremento medio che la funzione subisce nell'intervallo a b, passando dall'estremo a all'estremo b, ed è il motivo per cui viene anche chiamato teorema del valore medio. Nell'interpretazione geometrica il significato di questo rapporto sarà ancora più chiaro. Viene a rappresentare un coefficiente angolare di una retta secante. Passiamo quindi alla dimostrazione del teorema. Per dimostrare il teorema di Lagrange si fa uso di un teorema già recentemente dimostrato, precisamente il teorema di Rolle. Il teorema di Rolle richiede però un'ipotesi che qui non abbiamo, cioè l'uguaglianza dei valori della funzione agli estremi dell'intervallo. In generale non è detto che f di a ed f di b coincidano fra di loro, altrimenti la differenza f di b meno f di a farebbe zero. Costruiamo allora una funzione a parte, dipendente dalla funzione f, alla quale sia applicabile il teorema di Rolle. La funzione è così fatta. La chiamiamo fi, fi di x uguale f di x meno una costante k moltiplicato x. Dal momento che kx è un monomide sicuramente continuo e derivabile per qualsiasi valore di x e dal momento che la funzione f è continua in a b e derivabile in a b aperto, anche la funzione fi mantiene le stesse caratteristiche di continuità e derivabilità della funzione f. In più possiamo fare in modo, scegliendo opportunamente il valore della costante k, che sia fi di a uguale fi di b in modo da avere anche la terza ipotesi del teorema di Rolle e applicheremo il teorema di Rolle alla funzione fi. Per avere quest'uguaglianza calcoliamo separatamente fi di a che è uguale per sostituzione a f di a meno k a e fi di b che è uguale a f di b meno k b. L'uguaglianza fi di a uguale fi di b porta quindi a f di a meno k a uguale f di b meno k b. Noi stiamo cercando il valore di k, quindi adesso k è la variabile di questa equazione, isoliamo quindi i termini con k a sinistra e i termini noti a destra, risolviamo quindi questa equazione. Ricopio l'equazione f di a meno k a uguale f di b meno k b. Portando i termini con k a sinistra abbiamo k b meno k a uguale f di b meno f di a. Mettiamo in evidenza k, raccogliendo la fattore comune, k per b meno a uguale f di b meno f di a. Portiamo b meno a a dividere e otteniamo k uguale f di b meno f di a fratto b meno a che è proprio il rapporto che compare nella tesi del teorema di Lagrange. Questo valore di k va sostituito nella funzione fi. quindi la funzione fi adesso risulta essere data da f di x meno k, cioè f di b meno f di a fratto b meno a, moltiplicato x. Con questa definizione la funzione fi soddisfa le tre ipotesi del teorema di Rolle, che sono le stesse del teorema di Lagrange per quanto riguarda le prime due, cioè la continuità e la derivabilità. In più c'è l'uguaglianza dei valori della funzione ai due estremi. A questo punto possiamo applicare alla funzione fi il teorema di Rolle, il quale ci assicura l'esistenza di un punto c appartenente all'intervallo a, b, tale che risulti fi primo di c uguale 0, tesi del teorema di Rolle. D'altro canto vediamo chi è fi primo di c. Poiché fi primo di x può essere calcolato a partire dalla derivata della funzione f, procediamo con il calcolo. Fi primo di x è dato da f primo di x e poi dovremmo scrivere la derivata di k per x. Ma la derivata di k per x, visto che k è una costante, si ottiene con k per la derivata di x che fa 1, quindi è f primo di x meno k, cioè f primo di x meno f di b meno f di a fratto b meno a. E mettendo il valore c che annulla la derivata della funzione fi, otteniamo 0 uguale f primo di c meno f di b meno f di a fratto b meno a. Infatti, se mettiamo c al posto di x, fi primo di c fa 0, grazie alla tesi del teorema di Rolle. Da qui, portando f primo di c a sinistra e cambiando disegno, otteniamo proprio la tesi del teorema di Lagrange. f primo di c uguale a f di b meno f di a fratto b meno a. Diamo adesso un significato geometrico a questa tesi. osserviamo che f di b meno f di a fratto b meno a può essere visto come coefficiente angolare di una retta seccante al grafico della funzione passante per i punti di ascisse a e b rispettivamente. Infatti, se consideriamo il punto a di coordinate a e f di a, è un punto del grafico della funzione, è il punto b di coordinate b, f di b, la retta passante per questi due punti si ottiene conoscendo nel coefficiente angolare, cioè y meno y con b fratto y con b meno y con a uguale a x meno x con b fratto x con b meno x con a. Equazione della retta passante per due punti. D'altro canto osserviamo che y con b non è altro che f di b e y con a è f di a. Ello stesso modo, x a è a e x b è b. Facendo le opportune sostituzioni otteniamo y meno f di b fratto f di b meno f di a uguale a x meno b fratto b meno a. Portiamo questo denominatore a moltiplicare a destra e otteniamo y meno f di b uguale a f di b meno f di a fratto b meno a per x meno b. A questo punto portiamo questo termine a destra e otteniamo l'equazione della retta che stavamo cercando, cioè y uguale f di b più f di b meno f di a fratto b meno a per x meno b. Questa equazione rappresenta, come dicevo, la secante, retta secante al grafico della funzione nei punti estremi del grafico a e b. Il suo coefficiente angolare coincide proprio con il rapporto che compare nella tesi del teorema di Lagrange. A questo punto prendiamo una particolare funzione, la rappresentiamo mediante geogebra e vediamo cosa rappresenta la tesi del teorema di Lagrange. La funzione che andiamo a studiare è la seguente. f di x uguale radice di x e la prendiamo nell'intervallo 0,2. Intervallo in cui la funzione è evidentemente continua e inoltre è anche derivabile. Infatti risulta f' di x uguale a 1 fratto 2 radice di x certamente derivabile nell'intervallo 0,2. In realtà è derivabile in 0 più infinito ma a noi interessa in particolare l'intervallo 0,2. La tesi del teorema di Lagrange ci dice che esiste certamente c appartenente all'intervallo 0,2 tale che risulti f' di x uguale a radice di 2 cioè f di 2 meno radice di 0 cioè f di 0 fratto b meno a cioè 2 meno 0 questo è f di b f di a e b meno a e questo fa radice di 2 su 2 vediamo se effettivamente questo punto c esiste e dove si trova esattamente basta prendere infatti la derivata della funzione questa e risolviamo l'equazione 1 fratto 2 radice di c uguale radice di 2 su 2 si semplifica il 2 con il 2 otteniamo invertendo radice di c uguale 1 su radice di 2 e elevando al quadrato radice di c al quadrato uguale un mezzo e quindi c è uguale a un mezzo in questo punto la derivata della funzione coincide con il coefficiente angolare della retta secante questo è il significato geometrico questa qui è la derivata della funzione nel punto c e coincide con il coefficiente angolare della retta secante passante per gli estremi del grafico ma anche con il coefficiente angolare della tangente nel punto c visto il significato geometrico della derivata visualizziamo il tutto graficamente su GeoGebra qui abbiamo il grafico della funzione radice di x riportato nell'intervallo 0,2 ci sono i punti estremi a e b di coordinate 0,0 e 0 radice di 2 radice di 2 e tratteggiata in verde abbiamo la retta secante il cui coefficiente angolare coincide con il rapporto dato dalla tesi del teorema di Lagrange ora proviamo a spostare verso l'alto questa retta i due punti di intersezione chiaramente si avvicinano a un certo punto a e b andranno a coincidere in corrispondenza proprio del punto la cui esistenza è garantita dal teorema vediamo che 0,5 si trova qui i due punti vanno a coincidere dando essenzialmente la retta tangente a parte dei piccoli malfunzionamenti del grafico la retta tangente ce l'abbiamo proprio in corrispondenza del punto di ascissa 0,5 che è il punto la cui esistenza è garantita dal teorema di Lagrange questo è il significato geometrico e oltretutto possiamo anche osservare una cosa il teorema di Rolle può essere visto una volta noto il teorema di Lagrange come caso particolare del teorema di Lagrange infatti quando una funzione ha anche l'uguaglianza dei valori della funzione alle due estremità cioè f di a risulta uguale ad f di b il rapporto f di b meno f di a fratto b meno a fa 0 perché la differenza f di b meno f di a fa 0 e quindi il fatto che risulti f' di c uguale a questo rapporto ci porta inevitabilmente al fatto che sia f' di c uguale 0 per cui avere un punto in cui la derivata si annulla come garantito dal teorema di Rolle equivale a un caso particolare del teorema di Lagrange ovviamente come già osservato nel caso del teorema di Rolle il teorema garantisce l'esistenza di un punto in cui si ha la tesi del teorema ma ce ne possono essere anche di più 1 è quello che il teorema garantisce supponiamo per esempio che il grafico della funzione sia così fatto qua abbiamo gli estremi a e b dell'intervallo di definizione la funzione è continua e derivabile e allora guardiamo la retta secante passante per i punti a e b questa retta è il coefficiente angolare dato proprio da questo rapporto ora di rette tangenti che hanno lo stesso coefficiente angolare della secante ce ne sono diverse ne abbiamo una qui una qui una qui il teorema essenzialmente ci dice questo ci dice che esiste almeno un punto in cui la tangente al grafico ha la stessa pendenza della retta secante passante per gli estremi dell'intervallo questi sono i punti a e b che abbiamo individuato prima ma in questo particolare caso ce ne sono diversi nell'esempio che abbiamo trattato noi qui vediamo che c'è una tangente che ha la stessa pendenza della retta secante iniziale